Sì, 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 qualcuno che qui ci mancherete, che è solo alla fine del tuo tempo, ma qua... Lì effettivamente è che ci si possa sapere il tuo occhio. Dio lo so. C'è la Silvana e... Una telecamera o una macchina a fungare? Entrambe. Ma stai girando il film? Sì. Spielberg. Oh, ha fatto 60 anni lui. Happy Feet.